In effetti chi vuole, i giovani soprattutto, anche nei corsi universitari dove non credo che si adottino testi narrativi, però se vogliono capire rapidamente come funziona quel sistema è sufficiente che leggano questo libro. Un particolare mi pare da sottolineare, Roberto Tagliavia, naturalmente tutti gli altri suoi parenti, familiari, soci, riescono in un certo momento ad avere la meglio per un garbuglio. C'è tutta questa popò di battaglia, non è che uno poi alla fine fieramente racconta, se non era per un passaggio, e cioè perché scopre lui, perché lui si mette a leggere tutte le carte, che i signori greco non erano agricoltori, cioè la qualifica, tu che fai, geometra, geometra, un certificato, non era un agricoltore, quindi non potevano, non avevano titolo per fare il contratto che gli aveva, per condurre il fondo. Perché si vince una battaglia? Per una cosa del genere. Allora, Roberto, il romanzo è straripante, ma è dotato a mio parere, e contrariamente all'opinione di altri che ho sentito, amici che l'hanno letto, della virtù della sintesi. E dov'è questa virtù della sintesi? Io l'ho trovata in primo luogo nel ritmo narrativo, che somiglia al movimento della superficie del mare quando c'è la bassa marea e la brezza. Un movimento costante, ma non monotono, anzi seducente. Il bello è che io, che all'inizio subito ho captato questa componente, lo ritrovo dichiarato esattamente così da lui, alla fine del romanzo, a pagina 715, quando evoca i movimenti di una sinfonia che appunto lo accompagna con queste ondate lievi e rassicuranti. La sintesi è poi nell'ironia che lui adopera. Ci sono cose strepitose, per esempio la bombola che tutti in famiglia aprono e chiudono dopo che c'è il terremoto. No, debbono scappare, ci chiude la bombola. E tutti pensano la stessa cosa. Guardate che è un simbolo molto interessante. Tutti passano e chiudono. Naturalmente ognuno fa il contrario dell'altro e infine la bombola resta aperta. L'ironia è una calma mobile in questo libro, dovuta al distacco di chi osserva, non per capire, ma dopo aver capito, lui dopo che ha capito ci racconta tutte queste cose. Infatti noi lettori non sobalziamo neanche quando arriva la descrizione del terremoto. Io non ho sobalzato quando lui racconta dello sbarco sulla luna o addirittura quando lui racconta del personaggio, l'immaginario attentato che arriva a concepire per liberarsi dal personaggio di Michele Greco. non sobalzo quando racconta del caso de Mauro, della strage di Ciaculli, di Viale Lazio, sono tutte piccole creste di un mare placido, salvo un breve grande amore di cui lui racconta in questo libro. Lì il ritmo cambia, c'è uno scombussonamento, anzi, in tre momenti d'amore che lui racconta e scommetto di non sbagliare se dico che quella è la parte più costruita con la fantasia dall'autore, mentre tutto il resto è tutto frutto dell'esperienza diretta. Ecco, Roberto, dopo che tu hai capito dovresti sforzarti di fare una sintesi per noi e ora qui di questo romanzo, io, se me lo chiedessero, non potrei dire altro che è una vittoria contro Greco, Gioia e compagnia bella, è una sconfitta. La sconfitta è quella politica, non solo sua personale nel partito, ma del partito comunista a quell'epoca. E ci sono diversi momenti cadono le braccia, c'è un mortificante contatto che lui cerca con i leader per sollevare apertamente in termini di caso politico da affrontare la vicenda di cui ci stiamo ora occupando lo lasciano lì ad aspettare a sera a notte fonda. Confidenza non manco gliene danno. Anzi, forse le sconfitte sono due perché non c'è solo questa qui che ho accennato, ma c'è la strategia della tensione che vince la partita. Quindi, una vittoria e due sconfitte. C'era il terrorismo al nord e la mafia al sud e si si tardava a considerarlo un unico disegno. Si aspettava di vederli espressamente uniti, cosa che si riesce a capire quando arrivano i delitti politici, quando si uccide Reina, quando si uccide Mattarella, quando si uccide la Torre. Il segreto era invece nell'adorazione distinta ma ben coordinata. Il primo nel lontano 1994 a dubitare che ci fossero i servizi deviati, anzi, lui disse che erano ben orientati, fu il giudice Giuseppe Di Vello nello suo libro I giudici. Solo nel 2022 è arrivato un altro prestigioso intellettuale, Gotorre, che nella sua generazione 70 scrive espressamente ma quali deviati? Erano servizi che funzionavano ottimamente funzionavano per realizzare. Come? Il libro sul novecento è molto bello. La sintesi. La sintesi è che non è né una sconfitta né una vittoria ma è una battaglia ancora in corso e il libro vuole aprire una discussione perché quello che manca perché ci sia la vittoria è che gli strumenti devono essere affinati e non è un problema siciliano è un problema nazionale io dico che è anche oramai un problema europeo vista la dimensione di certi fenomeni ed è sicuramente lo è sempre stato un problema internazionale perché attraverso questo libro io provo a far capire questa lunga presa di coscienza che probabilmente deriva anche da questi precedenti familiari quindi questo punto di vista sempre la mamma emiliana questo punto di vista non tutto siciliano tutto chiuso dentro dentro l'isola e questa che oggi potremmo chiamare con una frase di grande sintesi la questione della sovranità limitata di questo paese dopo la seconda guerra mondiale l'attenzione al ruolo strategico internazionale che la Sicilia ha dal punto di vista territoriale all'interno di grandi questioni di questo grande scontro che c'è stato tra Oriente e Occidente e che ahimè oggi sembra riproporsi non più con i caratteri ideologici di allora ma insomma siamo siamo di nuovo lì a uno scontro di civiltà e io temo che in nome dello scontro di civiltà al solito si presentino dei signori magari uscendo da qualche cella di carcere americano per garantire che la Sicilia saprà garantire il controllo di ampie parti del mondo a chi saprà finanziare e qui ho un dubbio oggi che non siano solo le celle delle galere americane ma che possono essere le celle un po' di tutto il mondo perché osservo con preoccupazione quello che avviene in Russia l'attenzione al Mediterraneo l'attenzione ovviamente alla costa araba e quindi uno scontro dove la Sicilia si ritrova come diceva Piola Torre ad essere un punto nevralgico al centro di servizi segreti che lavorano su cose delicatissime che facciamo facciamo una discussione su Massimo Don Gesualdo sulle piccole beghe delle famiglie siciliane delle questioni ereditarie il terreno è mio il terreno è tuo o riusciamo a capire che attraverso queste piccole storie in realtà si prendono in ostaggio patrimoni si prendono in ostaggio territori si assicura il controllo di porzioni del mondo avendo dietro dei soggetti che hanno una forza ovviamente economica di grande rilievo e io questo come dire lo rigiro questo interrogativo lo rigiro al paese alle forze politiche del paese agli intellettuali di questo paese innanzitutto partendo dagli intellettuali siciliani e comunque da chiunque in Sicilia abbia capacità di scrivere che scriva che dica anche punti di vista diversi non mi non mi fa né caldo né freddo ma serve per capire quello che sta succedendo guardate che io ho avuto una reazione strana quando feci leggere per la prima volta mia madre di Parma appunto ma insomma mi suda però a Palermo gran parte della sua vita dopo aver sposato mio padre la quale dopo aver letto e degli incidenti aerei e della sfilza di assassini eccetera eccetera dice non mi ero resa conto di essere vissuta in questa storia perché ogni avvenimento era chiuso in sé è caduto un aereo è caduto un aereo ed è un capitolo ne è caduto un altro ah ma siamo viellati va bene ne è caduto un altro hanno ammazzato il presidente della regione siciliana è il governatore è qualcosa di una regione a statuto speciale un pezzo della costituzione non è una cosa banale hanno ammazzato il generale dei carabinieri che aveva arrestato Furcio che aveva colpito una tendenza pericolosa che c'era in certi ambienti nella sinistra quindi si potrebbe pensare un eroe per la destra un eroe per chi ha una certa idea dell'ordine e viene ucciso così e viene ucciso il capo dell'opposizione ma quando succede questo nelle altre parti del mondo noi siamo sempre che gridiamo ah è in pericolo la democrazia ammazzano il capo dello stato ammazzano il capo dell'opposizione ammazzano il generale dell'esercito non parliamo poi dei magistrati e non parliamo del fatto che ci sono stati il bel libro di Calabro mille morti ammazzati a Palermo non è il fatto che c'è stata una rabbina purtroppo c'è scappato il morto ecco quando tu vedi tutto questo insieme cogli un significato è stato fatto in questo paese un'operazione che è stata già fatta in America Latina e forse con le stesse intenzioni di dividere un paese in due visto che in questo paese c'era questa forza comunista soprattutto asserragliata nel centro nord d'Italia per cui almeno il sud nel cuore del Mediterraneo non se ne doveva parlare ed è lo stesso filo di ragionamento l'omicidio Moro l'omicidio Mattarella è tutto questo ecco perché su queste vicende non si arriva mai a dei chiarimenti e io dico che per quello che riguarda la vicenda nella quale io mi trovo impelagato quando dico è ancora una lotta aperta e perché delle promesse che furono fatte al braccio armato di questo progetto a chi si era messo al servizio per fare i lavori sporchi le promesse fatte vanno mantenute c'è una scena nella quale incontriamo la famiglia greco tutta la famiglia greco nello studio di un avvocato per decidere dopo che io ho fatto il mio pistolotto tutto lì a spiegare che loro non erano in condizione di condurre il fondo che non c'era nessun contratto e che quindi poche storie se ne andassero fuori dai piedi un notaio di un paese vicino cognato di Michele greco si alza mi guarda e cerca tra i vari soggetti di questa società che è il contenitore giuridico di questa eredità del conto tagliaria ma gioia ma non c'è un gioia in questa società quindi quello che dicevo io non sa variente vogliamo parlare con chi furono sottoscritti i patti timidamente un rappresentante della società che raccoglieva le azioni anche qui una stranezza un avvocato non entra a far parte di una società un avvocato si fa pagare la parcella qui invece entra nella società attraverso un'altra società e timidamente dice io rappresento la scena è da film e qua ci potrebbe un amico si solleva lentamente come sto facendo io inarcandosi mentre si alza quindi non alzandosi insomma dire è allora no sempre con un atteggiamento di grande rispetto tende la mano per salutare un garbo e quello risponde educatamente e stringe la mano un'altra mano va sopra e guardandolo negli occhi gli fa che grand'uomo quello era un uomo che sapeva rispettare la parola data e si siede tutti gli altri greco guardano tra cui a proposito dei registi cinematografici il figlio di Michele Greco che faceva si piccava di fare il regista cinematografico infila la mano in tasca ed esce un foglio di carta lo apre lentamente e lo propone al rappresentante dice questa firma è dell'avvocato la persona in questione è un gentiluomo come tutte le contraddizioni poi del nostro mondo una persona assolutamente perbene e si trova davanti questo foglio e sta un po' mi si sono seccate le vene perché se lui avesse risposto che quella era la firma quello avrebbe detto e allora siccome qui c'è un impegno scritto dovete mantenerla invece lui lo guarda e se no la riconosco non saprei dire non sono assolutamente no 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 non posso dire che è la firma aveva salvato la prospettiva di cui su cui noi avevamo costruito e stavamo costruendo la nostra ipotesi però evidentemente un momento dopo si rende conto perché poi la riunione ha avuto naturalmente un andamento diverso e quindi andiamo in tribunale e quindi deciderà il giudice se voi dovete restare lì oppure no e si rende conto di quello che ha fatto e ha uno scatto nervoso nei miei confronti che è raccontato nel libro non sto a raccontarlo perché se no poi il libro non lo comprate più e questo perché lo dico perché è un esempio di una storia che cammina su un filo delicatissimo fatto di interpretazioni di legge e di incongruenze già Bianca ne ha accennate alcune all'inizio se tu individui un delitto si sta espropriando così un patrimonio ma non me lo puoi mettere in una sentenza di rinvia giudizio che è la voce del giudice in nome del popolo italiano che dice quindi andiamo a fare un processo perché questo è un atto pubblico e quando poi io vado in banca a chiedere i finanziamenti per continuare la mia attività nell'agenzia tagliavia e mi si spiega dice ma guardi che risulta voi avete perso tutto il patrimonio quindi lei che cosa viene a dire qua voi capite che impatto immediato che c'ha e se c'è un fumus stante l'obbligo dell'azione penale dovresti dirmi tu che fine ha fatto il patrimonio se in effetti è stato posso invece questo non viene fatto non viene fatto neanche quando noi reiteriamo tutta una serie di denunzie civili e penali contro l'atteggiamento dell'amministratore il quale ha fatto un delitto perché Michele Greco viene mandato al maxiprocesso partendo dalla storia di un assegno che era un assegno del clan Nuvoletta seguito secondo la tecnica di Falcone seguire il denaro e viene riciclato a Palermo dall'amministratore dei nostri beni e si chiama l'amministratore come mai porta la sua firma ah ma sa ha comprato un terreno nostro bene andiamo a vedere gli atti e si scopre che in effetti Michele Greco ha preso ha comprato quel terreno uno dei terreni dell'asse ereditario del Conte Tagliavia l'ha pagato con quell'assegno e però l'amministratore gli ha restituito buona parte dell'assegno quindi in pratica quasi regalando e riciclando perché di questo stiamo parlando bene il terreno è stato sequestrato e fa parte oramai del patrimonio dello Stato ed è assegnata da una cooperativa è stata una storia lunga e va benissimo quindi come dire una azione lineare chiara ma se è stato oggetto di un reato l'amministratore che fine fa l'amministratore non è stato toccato è stato lasciato lì per anni e quella scena che vi ho raccontato che avviene quando oramai l'amministratore è morto quella scena fa capire che doveva stare lì perché c'erano degli obblighi che andavano garantiti Michele Greco finisce in galera ma ai suoi deve essere dato quello che era stato promesso allora uno si comincia a domandare ma come funziona questa lotta antimafia com'è questo fatto queste risorse che potrebbero essere messe in azione per determinare un tipo di sviluppo diverso io lì ne accenno qualche cosa perché sono ancora in ostaggio e siamo ancora in questa situazione una società che lascia deperire nonostante gli sforzi fatti da me dai miei figli per cercare di fare progetti per cercare di andare all'assegnazione per poter ottenere finanziamenti europei eccetera eccetera regalare alla città di Palermo un angolo strepitoso di rispetto della natura qui mi è stato dato poco fa un volume su quelle aree era stato fatto un progetto live europea a Barcellona sono andati avanti su quel progetto erano quasi contemporanei a Palermo è bloccato soldi che non sono stati mai spesi e il rischio che il terreno diventi oggetto di discarica ho dovuto e ho potuto evitare una discarica abusiva che oramai è reato penale e riguarda il proprietario fatto dai greco prima di andare via mi fecero questo regalo una notte di riempire una serie di zone di questo giardino meraviglioso con sfabriciti forse amianto e quanto altro vi lascio vi lascio immaginare è una battaglia in corso cosa facciamo continuiamo a guardarci le punte delle scarpe o cominciamo a ragionare su come dobbiamo affinare gli strumenti legali politici istituzionali avendo il coraggio di cambiare profondamente qui c'è tutta la parte lui dice io me la prendo col partito ma certo che me la prendo col partito non è solo una storia sui limiti del partito comunista perché è una storia che ha avuto una conclusione se ne è aperta un'altra che voleva salvare come dire la parte migliore della tradizione e innestarla in qualcosa che servisse al paese il primo tentativo è andato a buca è andato male il secondo invece pure e il terzo se ne sono perse le tracce forse ora se c'è un tentativo di dare segni di vita ma non è possibile che di fronte a questo intreccio tra questioni che riguardano il modo come una borghesia produttiva viene impedita dal fare il suo mestiere e gli viene denegata la giustizia dal nostro sistema giudiziario si continua a stare così a guardare in Sicilia non è una storia siciliana la Sicilia paga per la sua posizione strategica ma è una storia che riguarda il paese che tipo di sviluppo di paese vogliamo avere perché quando io dico c'è stato un momento in cui qualcuno forse sull'altra sponda dell'Atlantica ha pensato di fare in Italia come in Corea come in Vietnam tiriamo una riga di sopra va bene i comunisti ma di sotto non si deve perdere e tutto questo è stato dato in mano alla mafia e sono gli anni in cui viene fuori la nuova camorra organizzata il rinancio dell'andrangheta che era scomparsa nei libri di antropologia così criminale è la nuova corona unita ma la sacra corona unita è ma non ci vuole ci vuole tutto assieme è la guerra che Totò Riina fa nei confronti della vecchia mafia per affermare un certo tipo di controllo militare del territorio voi capite che cose di questo tipo oggi ci impongono una riflessione questo è il mio contributo volete fare domande porre quesiti chiarimento poi un altro merito del libro che ho scoperto stasera è che ha invitato a tirare fuori notizie che non avremmo che non avremmo avuto e che sono interessantissime cosa? il merito del libro è di averti fatto raccontare questi tuoi antecedenti ed è una cosa che andrebbe raccontata anche questa anche questa si deve fare sapere cosa c'è in Sicilia cosa c'è stata e cosa ci può essere come? si quesiti interventi chiarimenti no allora io tanto per evitare che ci siano equivoci valintesi desidero a nome di questi qui ma credo anche di voi tutti rendere onore omaggio a Roberto nel suo libro richiama il mondo di resistenti che portavano dentro di sé la voglia e la capacità di superare le difficoltà con un episodio ci vuole un minuto nel 1956 la federazione del partito comunista italiano di Palermo incaricò il primo responsabile di zona di Corleone del Corleones era un uomo di 30 anni che andava ogni fine settimana con la corriera a Corleone c'era una locanda dove l'umidità si tagliava con il coltello e sotto c'era un bar già la prima mattina quando scende trova un giovane uomo che gli si rivolge e dice lo prendiamo un caffè il responsabile di zona gli fa no grazie sarebbe accaduto molte volte molte mattine di seguito che faccio lo prendiamo un caffè e lui no grazie dopo di che entrava nel bar chiedeva un caffè e lo pagava con i suoi soldi l'uomo che insisteva per pagargli il caffè si chiamava Totò Riina aveva 26 anni l'uomo che insisteva a dirgli no grazie entrava e se lo pagava da sé si chiamava Giuseppe Tornatore mio padre non so se posso aggiungere qualcosa per introdurre un tocco lieve in questa discussione che abbiamo avuto peraltro molto interessante il tocco lieve è questo in questo libro ci sono cinque punti dove cito dei brani musicali abbiamo notato vi invito a leggere quelle pagine accendendo un telefonino un'Alexa una cosa qualunque ascoltando quei brani perché secondo me anche quello che c'è scritto si percepisce in modo diverso e io ci tengo a trasmettere queste sensazioni che sono sensazioni belle di un posto bellissimo dove vale la pena vivere e che non riesco a liberare grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti